E' stata messa la parola fine alla serie di rapine di Rolex avvenute in diverse zone di Roma tra il novembre 2012 e l'aprile del 2013. Le indagini della squadra mobile hanno portato a individuare tre persone, due pregiudicati romani già detenuti per altre rapine, tra cui una ai danni dell'attore Lino Banfi e un 27enne napoletano anche egli finito in passato dietro le sbarre. La vittima veniva seguita di solito a bordo di motorini e appena possibile veniva minacciata con una pistola. A quel punto poi le veniva strappato l'orologio e portato via.